Il nostro fegato è decisamente uno degli organi più funzionali e versatili dell'organismo, sede di oltre 800 processi enzimatici che vanno dalla creazione di riserve energetiche alla sintesi di ormoni alla neutralizzazione di sostanze tossiche. Non c'è da stupirsi quindi se quando smette di funzionare non è esattamente semplice sopravvivere. In molti casi però questa perdita di funzionalità non è immediata, ma si sviluppa nel corso di diversi decenni, con all'inizio la cosiddetta epatopatia cronica, ovvero un processo infiammatorio a carico del fegato che duri per oltre 6 mesi. Le cause di tale infiammazione possono essere molteplici, ma tra le più frequenti si identificano consumo eccessivo di alcol, infezioni da virus dell'epatite B e C e la sindrome metabolica e diabete. Tutte queste cause, sebbene agiscano in maniera differente, determinano un aumento dello stress ossidativo a carico degli epatociti, ad esempio determinando la produzione di molecole altamente tossiche come nel caso dell'abbudo di alcol o inducendo l'attivazione del sistema immunitario nei confronti degli epatociti stessi nel caso delle infezioni virali. In ogni caso, questa condizione riduce la funzionalità del fegato causando un fenomeno caratteristico noto come steatosi epatica, ovvero la formazione di globuli di grasso dentro il fegato stesso che possono avere dimensioni differenti in relazione alla causa scatenante. Questa è una condizione molto comune e può essere facilmente valutata tramite ecografia per la presenza del bright liver, ovvero fegato luminoso, in relazione all'aumentata riflessione degli ultrasuoni dovuta proprio alla presenza di questo grasso. La statosi epatica può aggravare ulteriormente l'infiammazione del fegato, poiché l'eccesso di lipidi determina l'attivazione di mie metaboliche particolari che incrementano lo stress ossidativo, il quale aumenterà ulteriormente l'accumulo di lipidi e così via. Si ha quindi lo sviluppo della steatoepatite che porterà alla morte degli epatociti, ovvero la steatonecrosi. A questo punto viene messa in mostra la caratteristica praticamente unica del fegato, che già gli antichi greci avevano osservato ed introdotto nel mito di Prometeo, ovvero la capacità del fegato di rigenerarsi una volta persa massa. Infatti, il motivo per cui l'insufficienza epatica cronica impiega diversi decenni per manifestarsi è l'estrema capacità rigenerativa dell'organismo che è in grado di generare nuovi epatociti per soppiantare quelli distrutti. O meglio, sarebbe così fantastico se il sistema immunitario non avesse da dire la sua. Sebbene il fegato sia costituito per oltre il 90% dei epatociti, dicono al suo interno alcune cellule che svolgono altre funzioni, e tra queste figurano le cellule di Ito, cellule stellate di cui vi parlerò tra un po', e le cellule di Kaffer, che sono essenzialmente dei macrofagi specializzati. In quanto tali, nel momento in cui si sviluppa lo stress ossidativo, determinano la produzione di citochine infiammatorie, ovvero dei segnalatori molecolari che inducono lo stato infiammatorio tipico dell'epatite cronica. E potrebbero tranquillamente fermarsi qui, ma nooo, devono necessariamente mettersi in mostra e strafare. E così facendo stimolano le cellule di Ito a differenziarsi nei cosiddetti miofibroblasti, ovvero cellule capaci di generare grandi quantità di materiale fibroso, in un processo molto simile a quello che avviene durante la guarigione di una ferita, solo che, in quel caso, serve a chiuderle il prima possibile per permettere la sopravvivenza, a costo di lasciare una brutta cicatrice. Nel caso del fegato, invece, questa fibrosi porta ad uno scoinvolgimento della normale struttura del fegato, dando la cosiddetta fibrosi epatica. Questa, cari miei, quando associata al tentativo di rigenerazione del normale parenchimo epatico, porta alla tanto sospirata cirrosi epatica, in cui si ha appunto la presenza di cosiddetti noduli di rigenerazione separati da setti di materiale fibroso. Questa condizione risulta visibile all'ecografia per la presenza di un fegato bitorsoluto, inoltre la semplice palpazione rileva un fegato espanso e molto duro, proprio per la presenza di materiale fibroso. Le problematiche legate alla fibrosi derivano da due fattori principali, la perdita di epatociti e l'aumento della resistenza al flusso sanguigno. Il primo fenomeno è abbastanza ovvio. Le fibre connettivali sostituiscono gradualmente gli epatociti, per cui questi non possono più svolgere i loro compiti, e ciò si traduce in una serie di disturbi quali la riduzione delle proteine plasmatiche, in particolar modo dell'albumina con la presenza di ascite, ovvero accumulo di liquido nella cavità addominale, aumentato il rischio emorragico dovuto alla riduzione dei fattori della coagulazione, ridotta sintesi di sali biliari che riduce l'assorbimento dei grassi, fino ad arrivare alla ridotta neutralizzazione di sostanze più o meno tossiche, e questo vale sia per sostanze esterne, ad esempio i farmaci, infatti i soggetti con cirrosi epatica spesso seguono posologie molto diverse, in quanto essi possono accumularsi nell'organismo, sia per sostanze endogene, ad esempio ormoni come gli estrogeni rimangono in circolo più a lungo e portano nell'uomo alla ginecomastia e al caratteristico spider nevi. A questo però, come detto prima, si associa un'altra condizione. Il fegato infatti riceve tutto il sangue proveniente dall'apparato gastrointestinale ed, oltre a filtrarlo, ne riduce in maniera sostanziale la velocità, in quanto al suo interno le resistenze al flusso sono molto elevate. Quando si ha la cirrosi queste resistenze aumentano ulteriormente, a punto che il sangue venoso comincia a ristagnare nella vena cava, causando la cosiddetta ipertensione portale, di cui purtroppo vi dovrò parlare in un secondo momento, per cui anche per oggi è tutto, spero sia stato istruttivo e di vero sto gradimento, in caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale così so che sto facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi inoltre di seguirci anche su Facebook ed Instagram e se vi piacciono i nostri design potete trovare una di queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima! Grazie! Grazie! Grazie!